è incredibile ma secondo te lui piange lo di servituto era da vivere tipo a 10.000 persone è lui, è la sua scorta non è così basso come dicono dimmi che è vero è vero ha le mani da re dovrebbe portare un anello io vorrei abitare nel suo cervello quando si veste da ammiraglia mi fa impazzire ma ragazzi Silvia io sono un uomo io sono l'angelo della notte io conosco il copione della vita e il mio ruolo politico? semplice convincere sei senatori a passare dalla tua parte convincere sei senatori giuro di essere fedele alla repubblica di osservarne lealmente la costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione tutto è così patetico presidente e di esercitare le mie e di esercitare le mie e di esercitare le mie